Il deputato Parentela, prego, nel facoltà. Grazie, Presidente. Il suolo rappresenta la vera pelle del nostro pianeta e dell'interfaccia tra terra, aria, acqua e ospita gran parte della biosfera. La produzione di cibo dipende da questo sottile strato di terra, profondo da 30 a 100 centimetri. 500 anni è il tempo minimo necessario alla formazione di uno spessore di 2,5 centimetri di suolo. Per questo motivo il suolo è considerato una risorsa non rinnovabile. È la più grande e importante risorsa non rinnovabile. Il 95% del cibo sulla nostra tavola arriva dal suolo agricolo. Una gestione globale sostenibile del suolo potrebbe produrre il 58% di cibo in più. Il suolo ospita un quarto della biodiversità del pianeta. Ci sono più organismi in un cucchiaio di terra che persone sulla terra. Ci vorrebbero 143 tir per portare via i 3,8 milioni di litri d'acqua che un ettaro di suolo non cementificato può invece arrivare a trattenere spontaneamente. Il suolo libero è il maggior deposito di carbonio sulle terre emerse. Nei primi 30 centimetri di suolo agricolo si accumulano 60 tonnellate di carbonio per ettaro. In un suolo urbanizzato, zero. Il suolo immagazzina 4 mila miliardi di tonnellate di carbonio. La perdita di aree naturali e agricole produce un'emissione di CO2 in atmosfera peggiorando i cambiamenti climatici. Ogni anno nel mondo si perdono 50 mila chilometri quadrati di suolo. In Europa 11 ettari di suolo vengono consumati ogni ora dall'urbanizzazione. Questi 11 ettari di suolo ogni ora diventano delle vere e proprie città. In Italia in soli 14 anni, dal 1998 al 2012, ci sono consumati oltre 360 mila ettari di suoli agricoli. La superficie urbanizzata in Italia corrisponde a 2 milioni e 189 mila ettari, il 7% della superficie totale. Secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, si prevedono circa 8 metri quadrati al secondo di suolo libero che viene impermeabilizzato. Le conseguenze riguardano la solennità alimentare, la gestione delle acque e l'emissione di CO2. Ogni giorno, perciò, nel nostro bel Paese, il nostro bel Paese perde una superficie in grado di produrre cibo per 420 persone. Aumenta invece di 250 milioni di litri il volume potenziale di acque da gestire, provocando un aumento potenziale di CO2 emesse pari a 17.250 tonnellate. La maggiore concentrazione di superficie agricole consumate si è registrata al nord. Parliamo di meno 186 mila ettari, più di 186 mila ettari, seguito dal centro con 137 mila 762 ettari e dal sud con 131 mila 451 ettari. Per quanto riguarda la composizione della SAU, che è la superficie agricola utile, i seminativi coprono il 55% della superficie, i terreni a prato e a pascolo il 27% e il rimanente, l'8%, è occupato da coltivazioni permanenti. I dati dell'ISPRA relativi al cinquegno 2008-2013 ci mostrano come il consumo di suolo abbia inciso prevalentemente nelle aree agricole. Parliamo del 59%, interessando in modo particolare i terreni a seminativo. L'8% invece riguarda alberi e arbusti, il 22% riguarda le aree urbane permeabili e addirittura il 19% le aree naturali. Le conseguenze ambientali dovute alla crescente impermeabilizzazione di aree coltivate sono gravissime, in quanto il consumo di suolo in questa tipologia di terreni determina la perdita della funzionalità di riciclo degli elementi nutritivi, la diminuzione della capacità di assorbimento della CO2, la perdita dell'agrobiodiversità dovuta alla fermentazione degli habitat e non ultimo la distruzione del paesaggio. Del resto cosa potevamo aspettarci da questo Governo, che ha dato l'esempio al mondo di come non vuole appunto contrastare questo fenomeno? Parlo del famoso Expo, famoso tra virgolette, che ha sacrificato una regione come la Lombardia, che è in testa alla classifica europea sul consumo di suolo, passando da una superficie urbana di 209 m2 per abitante del 1950 a 719 m2 per abitante nel 2000. Valori doppi, non solo rispetto alla media italiana, ma anche a quella di tutta l'Europa occidentale. Quella Lombardia, che ha ospitato la grande truffa per le tasche dei cittadini italiani, chiamata Expo, in cui si doveva discutere di come nutrire il pianeta, insieme a quelle multinazionali che l'hanno affamato. La stessa regione, che sotto lo slogan dei partiti di destra e di sinistra, nutrire il pianeta, ha cementificato mille ettari di suolo agricolo, espropriato aziende agricole e zootecniche, e spesso 2,4 miliardi di euro per la costruzione di un'autostrada deserta, la Brebemi. Tutte le infrastrutture, poi bisogna considerare, connesse, che gravitano intorno ad Expo, sono numerose, hanno avuto tuttora la consistenza del cemento e l'odore dei nostri soldi pubblici. Il suolo, la più non rinnovabile delle risorse, ha diversi punti deboli che minacciano appunto la sua vitalità. L'impermeabilizzazione, come ho detto prima, l'erosione, l'impoverimento di materia organica, la perdita di biodiversità, la contaminazione, quindi attraverso l'inquinamento, la salinizzazione, la compattazione, perché i suoli comunque respirano, e poi ci sono le frane e smottamenti che sono fenomeni causati dal famoso dissesto idrogeologico. La cementificazione, tra le diverse modalità di consumo, è la più importante, è la più irreversibile. Da lì non si torna mai indietro, fosse anche di un centimetro quadrato. Ma l'urbonizzazione, che non è solo il cambiamento che più compromette la capacità di stoccaggio del carbonio nel suolo, ma è anche un cambiamento che va ad inserire funzioni e attività che a loro volta emetteranno CO2. Insomma, se al posto di un campo agricolo ci sarà una villetta, nella migliore delle ipotesi, la perdita che dobbiamo calcolare sarà quella dell'intera interruzione della funzione di stoccaggio, della progressiva riemissione di carbonio sotto forma di CO2, dell'emissione di CO2 durante le fasi di costruzione della casa e per la produzione di materiali di costruzione, e, infine, l'emissione periodica che si avrà durante la vita dell'immobile e dei suoi abitanti. Quello che era un frammento di suolo in equilibrio o con un bilancio addirittura favorevole diviene, in poche parole, una tessera in perdita e che accumula perdite nel suo ciclo di vita. Per arginare il consumo di suolo, l'Unione Europea sta rafforzando il quadro normativo di riferimento da diversi anni, tanto che la corretta gestione dei suoli è stata identificata come un'azione prioritaria nella strategia Europa 2020, con l'obiettivo di raggiungere a livello europeo un'occupazione netta dei terreni pari a zero entro il 2050. Allo Stato attuale gli interventi comunitari sono per lo più di indirizzo e devono essere necessariamente integrati con un quadro legislativo nazionale e locale che ne consenta un'adeguata applicazione, cosa che purtroppo non fa questa legge di cui stiamo parlando oggi in aula e che stiamo appunto esaminando. Le tre fondamentali sovranità su cui si regge uno Stato democratico sono la sovranità monetaria, la sovranità energetica e la sovranità appunto alimentare. Quest'ultima ha a che fare con la possibilità per gli Stati come per le comunità locali di decidere autonomamente che cosa produrre, di scegliere metodi di coltivazione sostenibili e rispettosi dell'ambiente e delle tradizioni locali, di decidere su quali mercati e a quali destinatari indirizzare gli alimenti. E tutto ciò a sua volta si basa su un altro principio fondamentale, che è quella della sicurezza alimentare, secondo il quale tutte le persone in ogni momento devono poter aver garantito l'accesso fisico, sociale ed economico ad alimenti sufficienti, sicuri e nutrienti, che garantiscono le loro necessità e preferenze alimentari per condurre una vita attiva, dignitosa e sana. Queste sono le parole della FAO che sono state dette appunto nel lontano, 1996. Il consumo di suolo agrario è un attacco diretto alla sovranità alimentare. Tra il 1990 e il 2006 i 19 Paesi membri dell'Unione Europea hanno cementificato terreni agricoli contraendo la loro produzione interna annua per un equivalente di oltre 6,1 milioni di tonnellate di frumento, pari all'1% della produttività annua europea. Può sembrare un nulla, eppure per compensare questa perdita interna sono state convertite ad agricoltura soia, cereali, barbabietta e zucchero in centinaia di migliaia di ettari naturali in Paesi africani, sudamericani e nordamericani. Le repercussioni del consumo di suolo locale si manifestano spesso a una scala diversa da quella su cui lavoriamo e dominiamo, arrivando a mettere a rischio il benessere in Paesi lontani e persino i già precari rapporti internazionali tra noi e questi Paesi. Cito l'esempio dell'Egitto, che è un nostro fornitore di grano già nel 2013, era in forte sofferenza per incapacità di soddisfare pienamente la domanda interna, ma allo stesso tempo vedevamo appunto queste navi cariche di cereali che salpavano i porti dell'Egitto, volti all'Europa, affamata e sprecona, oltre che incapace da anni di soddisfare la propria domanda interna, anche privi del fatto che si è contratto appunto sotto le scure del cemento. Parliamo ovvero della superficie agricola utile. La domanda che oggi deve informare l'inizio di ogni progetto di territorio è se possiamo continuare a permetterci di cementificare i terreni agricoli del mondo, come ad esempio la pianura padana, e mettere in ripentaglio la sovranità alimentare delle popolazioni di altri Paesi, assieme ovviamente agli equilibri di pace internazionale. La distanza tra la decisione urbanistica del Sindaco, del Comune più piccolo in Italia, è una crisi internazionale, è molto più corta di quanto siamo convinti. Presidente, io volevo sfruttare altro tempo, anche perché la deputata Mannino è assente, e quindi volevo prolungare... Io non ho iscritto alla deputata Mannino, e il suo gruppo mi ha dato... Cioè, lei e c'è l'onorevole Busto. Entrambi con dieci minuti. Va bene, Presidente. Concludo il mio intervento. In Italia... Credevo di avere un po' più tempo, Presidente. In Italia il consumo di suolo è stato creato da interessi rapaci, da piene urbanistici dissennati e frammentati tra migliaia di comuni. Se è corrotta la nostra idea di suolo, lo diventano anche le azioni che ne seguono. Senza cultura del suolo non si mette in moto né la responsabilità, né l'indignazione, né la volontà di cambiare, di innovare, e neppure la creatività o la fiducia che si può abbandonare la vecchia via per quella nuova. La questione del suolo ci riguarda tutti, indistintemente. Il suolo, come dice Salvatore Settis, dipende unicamente dal comportamento degli inquilini del piano di sopra, ai quali dobbiamo accendere il desiderio di tutelarlo. Il suolo è un bene comune, ma il suolo non si salva da solo. Serve un progetto culturale nuovo, che guardi il paese e il bene suono da un'altra prospettiva. Un'idea di città, di paese e di cittadinanza diversa. Siamo noi che dobbiamo salvarlo, la nuova generazione politica. Chi fino ad oggi è stato causa del problema non può proporre oggi una soluzione, proponendo ad esempio questa legge farlocca e ipocrita. Questo governo continua ad usare come foglio di fico le buone intenzioni per poi pugnalare alle spalle i cittadini, le prossime generazioni, facilitando quindi gli speculatori del cemento. Il suolo e le tasche dei cittadini non sono un bancomat. 2,5 cm di suolo impiegano 500 anni a generarsi. Invece un'escavatrice ci mette tre secondi a distruggerlo. Adesso deve concludere, onorevole. E finisco. Ritirate questo provvedimento. Ascoltate l'appello che i comitati e l'associazione del forum Salviamo il paesaggio e difendiamo il territorio stanno lanciando in queste ore per costruire insieme a tutti loro un impianto normativo davvero efficiente e concreto, che dica veramente stop al consumo di suolo. Io non sono un cattolico predicante, ma non posso non citare le parole importanti di Papa Francesco durante una conferenza internazionale della FAO. parole semplici, dirette, nonché rivoluzionarie. Dio perdona sempre, l'uomo perdona a volte, la terra non perdona mai. Grazie. Grazie.